Il primo manuale in Italia dedicato all'innovativo linguaggio di programmazione Made in Eppol nasce dalla passione di due giovani autori casertani, Pasquale Ragozzino e Antonio Aiata, per tutto ciò che riguarda la nota azienda di Cupertino. Il libro verrà presentato in un tour per tutti gli air store campani sabato alle 18.45 alla libreria Pacifico di Caserta.